cari amici di voa culture benvenuti alla terza edizione quella del 2022 del festival della scienza quest'anno dedicata agli spazi dello spazio e stiamo vivendo in questo periodo una nuova avventura spaziale parliamo del turismo spaziale parliamo dei viaggi interplanetari di tornare sulla luna delle colonie su marte e tutto ciò che va oltre il nostro sistema solare quindi abbiamo voluto dedicare in quest'anno attraverso la collaborazione uno dei personaggi più importanti della storia dell'ingegneria aerospaziale italiana vale a dire con l'ingegner Roberto Somma questo particolare tema parleremo della terra come il villaggio globale parleremo dell'osservazione della nostra casa della terra quella casa che ci consentirà poi di conoscere l'universo e di espandere i nostri viaggi non soltanto sulla luna non soltanto su marte ma fino a dove la nostra tecnologia ma soprattutto la nostra fantasia ci consentirà di fare quindi in questo nostro primo appuntamento non mi resta che lasciare con gran piacere la parola a Roberto Somma l'argomento che trattiamo oggi le telecomunicazioni spaziali telecomunicazioni spaziali cosa significa telecomunicazioni vuol dire connessione per permettere a due interlocutori di parlare a distanza l'uno dall'altro spaziali spaziale l'ambiente in cui si svolgono il che significa due cose da un lato sviluppare la capacità di andare nello spazio quando si è cominciato ancora non ci si poteva andare nello spazio e dall'altro vedere la realizzazione di sistemi in grado di vivere nello spazio perché non è le stesse tecnologie che non sono quelle che si usano sulla sulla terra i precursori della astronautica sono tre un russo un americano ed un tedesco il russo Konstantin Tsiolkovsky nel 1903 ha scritto il primo trattato diciamo di astronautica dal titolo l'esplorazione dello spazio cosmico per mezzo di motore a reazioni un trattato che vale ancora oggi nel quale si è scritta la famosa equazione del razzo che è valida a tutt'oggi il secondo un americano Robert Goddard che invece cominciò a sviluppare dei razzi razzi utilizzanti propellente liquido per salire per portarsi per decollare per andare verso l'alto va bene e nel 1926 lui provò uno di questi razzi insieme ovviamente ai suoi assistenti ai suoi amici e provò queste razzi l'altro terzo Erman Ober, Erman Ober tedesco quindi sono i tre Erman è particolarmente importante anche lui perché nel 1929 provò i razzi a propellente liquido ma perché poi è colui che in questi esperimenti diciamo lo faceva con i suoi assistenti studenti ma anche professore tra questi studenti una persona che rappresenta uno dei capisaldi della storia dello spazio mondiale che è Herbert von Braun e poi fu il Ober a capo del gruppo che sviluppò la V2 cioè il missile da guerra, missile bomba ben noto in Inghilterra per le bombe che gli sono state avviate. Nel campo invece dei precursori delle telecomunicazioni spaziali bisogna ricordare Erman Potovnik il quale si è firmato come Erman Nord, nell'unico libro che è scritto nel 1928, sentite il titolo, il problema della navigazione dello spazio, il motore a reazione nel 1929 e tra l'altro lui faceva tutta una serie di calcoli di orbite da cui ideò e derivò la orbita geosincrona cioè l'orbita di un qualcosa che fosse messo in orbita attorno alla terra a una distanza di 36 mila chilometri perché questa cosa avrebbe impiegato 24 ore per fare un giro completo esattamente il tempo che impiega la terra per fare una sua rotazione cioè un giro su se stesso per cui se questo oggetto fosse messo sull'equatore direbbe sincrono con la terra e stazionario rispetto alla terra nel senso che uno che fosse sull'equatore sotto al satellite e guardasse nell'alto lo vedrebbe sempre lì immobile, va bene? Questa idea fu ripresa nel 45 da un altro grande scienziato Arthur Clarke e Arthur Clarke scrisse una lettera nel tempo del 45 quindi l'epoca in cui la V2 e i scienziati tedeschi un po' erano andati negli Stati Uniti, un po' nell'Unione Sovietica e stavano lavorando su derivare da questa V2 i razzi americani, va bene? E Clarke scrisse una lettera a Wireless World dal titolo Peaceful Uses of V2 in cui ipotizzava che con la V2 potrebbe avere degli usi pacifici portando nello spazio dei ripetitori cioè dei sistemi di telecomunicazioni. Questo concetto fu espanso nell'ottobre successivo sulla medesima rivista intitolato Estraterrestrial Relay Can Rocket Stations Give World Wide Radio Coverage? Cioè si stava pensando al sistema globale, lui diceva quindi che se io mettevo tre satelliti tipo nell'orbita detta dalla Nordium a 120 gradi l'uno dall'altro avremmo avuto la copertura completa della Terra, avremmo quindi realizzato un sistema di telecomunicazioni globale. Ma questo è uno degli aspetti, quello della concezione di sistema, ma poi c'era un fatto di tecnologie e quindi qui c'è John Pierce, un grande scienziato, grandissimo scienziato nella teoria dell'informazione, nelle telecomunicazioni, lavorava ai Bell Telephone Laboratories, quelli dell'American Telegraph and Telephone e svolse un ruolo fondamentale nello sviluppo dei primissimi satelliti. Avanti, prossima. Ecco, allora però bisogna andare nello spazio, bisogna sviluppare le cose e il 4 ottobre 1957, prendendo il mondo alla sprovvista, anche se anche gli americani stavano lavorando per fare un satellite eccetera, apparve la notizia eclatante su tutti i giornali del mondo che la Terra aveva una nuova luna. Questa nuova luna si chiamava Sputnik ed era un satellite lanciato dall'Unione Sovietica. Bene, fu l'inizio dell'era spaziale. A questo punto raggiungere lo spazio era qualcosa che era iniziata, non nelle orbite evolute, ma insomma comunque era iniziata e tra l'altro ha permesso il varo del primo settore in assoluto, che è quello delle telecomunicazioni, senza il quale tutti gli altri settori non avrebbero potuto svilupparsi, perché qualunque sistema satellitare che sia sulla Luna, su Marte, che osservi la Terra, ha bisogno di comunicare con la Terra per mandare le informazioni che ha raccolto, per consentire collegamenti eccetera eccetera. Quindi vedete le telecomunicazioni sono l'elemento pervasivo della evoluzione dell'attività, spaziale nel mondo. Prossima. Ecco, allora cominciano gli americani, forse avevano anche cominciato i sovietici contemporaneamente, ma di quello che facevano gli americani si sapeva sempre tutto perché sui giornali appariva, mentre invece su quello che facevano dall'altra parte del mondo le informazioni non trapelavano. Bene, quindi gli americani iniziarono e la prima cosa da studiare era, ma se io mando una cosa che trasmette un'informazione, un messaggio, un arrivederci dallo spazio, quando arriva sulla Terra è ancora intellegibile? E' nello spazio, deve traversare l'atmosfera, ionosfera, troposfera e qualunque altro componente, e beh potrebbe darsi che questa abbia influenza sul messaggio, perché è sempre e comunque un segnale elettromagnetico che viene trasmesso, è ragione per cui bisogna fare delle sperimentazioni. Gli americani cominciarono nel dicembre del 1958 lanciando SCORE. SCORE non era di fatto un satelio, vuol dire Signal Communication Orbit Relay Experiment, era di fatto un piccolo trasmettitore con un messaggio registrato che è messo nell'ultimo stadio del razzo. Il razzo era un razzo ATRAS per cui fu lanciato e questo, mentre girava intorno alla Terra, va bene, chi era intorno alla Terra, trasmetteva questo messaggio e si poteva ricevere, capire l'intellegibilità e così via. Tant'è vero che questo esperimento fu chiamato Talking ATRAS, l'ATRAS che parla, perché in realtà non era un satellite. Un altro tentativo fu fatto in una maniera proprio direi, vabbè, ci hanno provato comunque, con il sistema ECO, cioè un enorme pallone che veniva gonfiato nello spazio di 30 metri, più di 30 metri di diametro, va bene, che diciamo era fatto di mylar metallizzato per cui dalla Terra si mandava il segnale, questo arrivava fino al pallone, veniva riflesso e quindi questo segnale di riflesso poteva essere ricaptato dalla Terra, insomma, capite, non era questa certa maniera più efficiente. Peraltro tutte queste cose erano in orbita bassa, il che vorrà dire che l'eventuale collegamento doveva avvenire quando i due interlocutori erano entrambi in vista del satellite, che insomma non è la cosa più comoda nella Terra. La prossima. Il successivo stadio fu il satellite del Courier 1B. Perché fu un ulteriore passo? Perché negli esperimenti fatti con quelli precedenti. Ci si era accorti che nella propagazione dalla Terra al satellite, dal satellite al satellite o dalla Terra allo spazio, dallo spazio alla Terra, c'erano delle perdite di segnale, degli assorbimenti, il segnale si indeboliva e quindi se si indeboliva troppo non riusciva in qualche modo ad essere poi recepito e percepito e ancora essere intellegibile, per cui fu inventato, e qui siamo a discorsi della Bell Telefon Laboratorista, diciamo a Pierce e così via, fu inventato il ripetitore attivo, cioè il segnale da Terra veniva trasmesso al satellite, il satellite lo riceveva, dopodiché lo riamplificava e veniva ritrasmesso a Terra, cioè facendogli recuperare la perdita subita nel percorso Terra-satellite, ridandogli l'energia necessaria per ritrasmettere la Terra. Questo fu un esperimento molto buono, per il più molto importante perché tra l'altro questi in orbita bassa facevano le verifiche passando in diverse situazioni dell'atmosfera, potrebbero passare su un cielo nuvoloso, su un cielo in cui c'era una forte pioggia in corso, per cui tutte le eventuali diminuzioni di prestazioni dovute a fattori atmosferici potevano essere esaminati perché è il satellite che si muoveva passando su diverse situazioni. Finalmente a luglio del 1962 fu mandato in orbita un satellite che si chiamava Telstar, un satellite che aveva tutti i vantaggi, il ripetitore, questo, quello e quell'altro, però c'era stato un accordo tra Stati Uniti, Inghilterra e Francia per fare un esperimento di trasmissione tra questi paesi. Trasmissione di immagini, quindi un passo avanti, va bene, non era più il messaggio, immagini. Telstar fu lanciato il 10 luglio del 1962 e qui vediamo in alto sulla destra la Stato delle Libertà, che è stata la prima immagine trasmessa dagli Stati Uniti, va bene, a cui i francesi risposero con I Montaigne, cantante in voga all'epoca, che cantava una canzone che fu trasmessa poi, diciamo, attraverso Telstar negli Stati Uniti. Vi faccio notare una cosa, nell'immaginetta quella in basso a sinistra vedete questa grossa struttura, quella grossa struttura era l'antenna ricevente sulla costa degli Stati Uniti. Ecco, se qui vedete c'è un puntino piccolo, puntino nero, qui all'interno, ecco quel piccolo puntino nero è una persona, un uomo, quindi immaginate che cos'era questa antenna in termini dimensionali. Pensate se avessimo avere antenne del genere per fare, per ricevere la TV da satellite, insomma, no? Però questi erano i primi esperimenti, le potenze erano quelle, ma era soltanto, ancora stiamo provando, provando le potenzialità del sistema. La prossima, prego. Ecco, è appena fatto questo satellite, va bene, è subito, subito, si capì, perché l'importanza delle telecomunicazioni non era, non bisognava aspettare lo spazio per capirla, era un grosso business, un grosso, diciamo, ambientale, settore, settore di, diciamo, economico. Per cui, poco dopo, qualche mese dopo, Kennedy firmò un decreto legge intitolato Communication Satellite Act, cioè un decreto legge che istituiva e che indirizzava l'America e ne stabiliva le regole per lo sviluppo delle telecomunicazioni. E infatti poco dopo, sempre nel 63, fu lanciato in orbita il Syncom 2, Syncom 2 che era il primo satellite in orbita geosincrona, cioè che impiegava 24 ore per fare un giro. Apriva la strada verso le telecomunicazioni da orbita geostazionale. Era geosincrona nel senso che non era sull'equatore, era un po' inclinato, il che significava che non era fisso rispetto alla Terra, ma oscillava sull'equatore. Ma, su cui o dopo, il Syncom 3 portò il satellite in orbita geostazionaria e quindi c'è stato il primo esempio di satellite in gra, fisso rispetto alla Terra, che consentiva di mettere in contatto persone, cioè con, diciamo, degli interlocutori che stavano nella stessa copertura dell'antenna del satellite. Ecco, appena fatto questo, siamo al 63, immediatamente viene registrata la COMSAT, Communication Satellite Corporation, per lo sviluppo di satelliti operativi. immediatamente dopo, sempre, nel 64 nasce InterSat, cioè una, diciamo, una sorta di consorzio internazionale, va bene, partecipato dalle nazioni per poter sviluppare il servizio commerciale delle telecomunicazioni satellitari. Quindi è stato il primo grande sistema di telecomunicazioni per lo sviluppo delle telecomunicazioni commerciali, perché le nazioni hanno questa enorme valenza. Come vedete, insomma, diciamo, il sistema industriale, il sistema economico è in continua, continua evoluzione, per cui si fanno fusioni, scioglimenti, vendite, acquisti e cose di questo genere. Allora, InterSat, che è nato come consorzio internazionale, va bene, nel 2001 viene privatizzato e diventa Insel Sat Limit, cioè una società privata, va bene, nel 2005 viene venduto alla Goldman Sachs, cioè un'identità economica. Il sistema era sempre quello, le strutture di gestione di satelliti erano sempre quelle, cambiava il proprietario. E poi nel 2006 acquista un altro sistema, che era come lui, che faceva Pan American Satellite, va bene, e quindi aumenta la sua costellazione di satelliti. Quindi, se andiamo alla biografia successiva, qui vedete che nel 65 viene lanciato il primo satellite, proprio fatto dalla InterSat, quello prima era il 5 ma era stato fatto, diciamo, dalla NASA, e viene fatto Early Bird, il primo satellite, che poi prende il nome di InterSat, è uno che dà origine al primo sistema satellitare commerciale di telecomunicazioni spaziali. Se voi vedete l'immagine sotto, vedete c'è una planimetria, diciamo, della nostra Terra, guardate la fila di nomi che stanno sull'Equatore, sono i satelliti InterSat, sono una cinquantina circa, questa è più o meno attuale, va bene, che garantiscono telecomunicazioni a livello globale, su scala globale, a tutto il mondo. Quindi questa è la situazione. Poi è chiaro che da quello continuano gli sviluppi, nascono altre società, altre aziende, nascono i privati e cose di questo genere, ma comunque oramai negli Stati Uniti il settore era avviato e quindi proseguiva, diciamo, rigogliosamente. Andiamo avanti. Quindi, ecco, però ci bisogna forse il problema di, ma in Europa che succedeva? Cioè io, in questa presentazione, partendo da come nasce, quindi in questo caso gli Stati Uniti, e poi arrivare per vedere l'Europa e il nostro paese, perché poi siamo interessati a quello che fa il nostro paese. Ecco, in Europa, su una idea, una proposta del professore Edoardo Amati, dell'Università, professore di Fisica dell'Università di Roma Sapienza, va bene, lui lanciò l'idea della creazione di una entità per la gestione, sviluppo e gestione dei sistemi spaziali, a matrice civile. Negli Stati Uniti era molto governata dalla difesa, a matrice civile, a livello europeo. Finalmente raggiunto gli accordi nel 1962, e poi la ratifica, portò un altro due anni, nel 1964 nascono, nasce l'Europa spaziale, divisa in due pezzi però, ESRO e ELDO. ESRO, European Space Desert Organization, Satelliti, e ELDO, European Launcher Development Organization, per il lanciatore. Questa fu una proposta, un'iniziativa, diciamo, molto osteggiata dal professor Broglio, che diceva che era sbagliato fare questi due, bisogna farne una sola, va bene, per lo sviluppo dei lanciatori, un'iniziativa nata da un accordo tra Francia e Inghilterra. Bene, nel 1964 tutto viene ratificato e nelle regole dell'Agenzia Spaziale, dell'ELDO, dell'ESRO, c'era la regola del giusto ritorno, perché queste istituzioni erano finanziate dai vari Stati membri partecipanti, c'era il diritto dei Paesi appartenenti agli Stati partecipanti di avere una ricaduta in termini di lavoro, di partecipazione ai vari programmi, pari alla percentuale della partecipazione del loro Paese al programma. Benissimo, quindi questo, insomma, in Italia, l'Italia partecipava con la sua percentuale di partecipazione al mantenimento di queste istituzioni. E quali erano però le industrie che potevano beneficiare di questo? Cioè, quando parliamo di spazio, parliamo di un po' di frontiera nel termine tecnologico, però all'epoca poi non ne parliamo proprio, parliamo del 62-64, figuratevi, eravamo proprio proprio poi inizi agli inizi, va bene, e quindi le industrie che potevano partecipare erano quelli che stavano già in settori tecnologicamente avanzati, di tecnologie, come si dice, moderne, capaci di affrontare ambienti non benevoli, ecco, e queste erano quelle che fondamentalmente lavoravano in settori avanzati come la difesa, come il nucleare, all'epoca ancora c'era il nucleare in Italia, e per cui chi c'era in Italia? C'era la Selenia, che per campo di elettronica, le antenne, diciamo, lavorava per la difesa, il suo core business era per la difesa, c'era poi la FIAC, va bene, che era nel settore strutturale e termico, va bene, poi c'era la Montedel, che era la lab, si chiama l'industria lab del gruppo, che si occupava invece di sistemi di comando e controllo di centrali nucleari, quindi in cui tu non vai a contatto con l'oggetto perché il nucleare non ti vuoi avvicinare, quindi devi stare fuori, va bene, quindi faceva cose di questo genere, nei sistemi di prova e cose del genere, e poi c'era la BPD, Bonprini, Parodi, Delfino, che era una vecchia azienda nata nel inizio del Novecento, che faceva allora nella difesa nel campo delle polveri da sparo, piccoli missili e cose di questo genere, e anche nello spazio servono dei piccoli motori per poter gestire il satellite, per poter gestire, diciamo, l'orientamento. Ecco, questa BPD è quella che oggi si chiama Avio e che è quella che poi ha sviluppato il vettore Vega, quindi questo è un processo di 50 anni. Andiamo avanti. Allora, l'ESA quindi parte anche lei per le telecomunicazioni spaziali, parte anche lei per le telecomunicazioni spaziali e lancia, la prima cosa che lancia nel 1978, quindi vedete, stiamo parlando di 14 anni dopo la nascita dell'ESA e stiamo parlando rispetto agli americani americani di 15 anni dopo, insomma, va bene, lancia l'orbital test satellite, un satellite di prova, di prova test, in orbita con dentro sistemi di telecomunicazione, per vedere se l'Europa aveva le capacità tecnologiche di poter fare, occuparsi di questo settore. Questo è stato il capostipite ed è quello che poi è servito come acquisizione di competenze, di tecnologie per sistemi che sono venuti dopo, tra questi il Marex. Marex è un satellite per telecomunicazioni via satellite con mezzi naviganti. Fa parte di una rete che si chiama I-Marsat, che è il proprio International Maritime Satellite, cioè per comunicare con le navi in navigazione e cose di questo genere, va bene, e poi subito dopo ECS, European Communication Satellite. Come negli Stati Uniti, con il lancio di Early Bird, I-Dalzat-1, nasce l'Intelzat, che è la struttura che utilizza operativamente i satelliti telecomunicazioni. Così, in Europa, il CS, che ha lanciato cinque satelliti di cui è stato un fallimento al lancio, comunque i quattro satelliti, sono stati poi ceduti ad una entità, diciamo, di nuova creazione che si chiama Eutelsat, cioè come InterSat e l'Europa si tratta di Eutelsat. Oggi Eutelsat è il massimo operatore europeo di sistemi satellitari per telecomunicazioni e a questo punto è lei che, diciamo, non produce, ma ordina, cioè si dota di satelliti sempre più avanzati per poter fare le informazioni di telecomunicazioni. Ha diverse famiglie, l'Intelzat, Hotbird, a seconda quella è più per telecomunicazioni telefoniche e l'altra è più per telecomunicazioni televisive e così via. Andiamo avanti. Bene, successivamente, dopo queste prime cose, l'Europa si lancia avanti con un satellite che si chiama Olympus, si chiamava Eutelsat, Large Satellite, quando fu ideato, che era un satellite per fare delle sperimentazioni molto, molto, molto più avanzate, ma ne parliamo poi magari dopo, dopo Olympus, dopo Olympus, oramai avendo dimostrato al mondo la sua capacità totale, lancia un programma che si chiama Artemis, che è un programma, gli americani si erano già dotati, da tempo, di un satellite che si chiama Data Relay Satellite. Qual è il problema? Il problema è che il satellite, ci sono stati in orbita bassa, prendete quelli di telerelevamento, osservazione della Terra, quelli devono girare in orbita bassa perché devono vedere tutta la Terra passando su e prendendo le immagini. Allora, è chiaro che tutte queste informazioni raccolte, che vengono immagazzinate in delle memorie che stanno sul satellite, nel momento che il satellite passa sulla sua stazione di ricevente, deve scaricarle. Però questo crea un problema perché ci sono dei sensori di osservazione che producono quantità immense di dati e quindi nel breve tempo di passaggio sulla stazione non è sufficiente per poterli scaricare alla stazione stessa. E allora si usano quindi limitatamente i sistemi di osservazione per fare in modo che i dati ottenuti siano adatti per poter essere trasmessi. Per questo gli americani hanno sviluppato il Data Relay Satellite che collega i satelliti in orbita bassa via un satellite in geostazionale, quindi sempre visibile, il quale è sempre visibile con la stazione di Terra e quindi in tempo reale, va bene, man mano che vengono raccolti i dati, questi vengono poi ritrasmessi alla stazione di Terra che ha questo compito, quello di raccogliere queste informazioni. Anche l'Europa si è dotato di questo satellite, si è dotato, ha fatto una sperimentazione che si chiamava Artemis, va bene, Artemis portava, ne parliamo un attimino, poi devo qualche cosa in più, lo dico dopo, e poi adesso Alphasat che è un satellite di nuova generazione, di nuova generazione che ha fatto l'AlphaBus, cioè una carrozza molto 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 evoluta, devanzata che è stata lanciata come Alphasat per provare la carrozza stessa e per fare delle sperimentazioni in frequenze ancora più elevate con un grosso contributo da parte dell'Università di Roma, Tor Vergata. Andiamo avanti? Bene, e l'Eldo? L'Eldo doveva fare lanciatori. Allora abbiamo detto che c'era una questione di accordo tra Inghilterra e Francia e qual era questo accordo? L'Inghilterra stava sviluppando già da tempo un sistema che si chiamava Blue Streak, che era un missile balistico interregionale, cioè per donare l'Europa di un sistema contro i potenziali nemici. Bene, e questo aveva un grosso supporto di conoscenze, di tecnologico e così via da parte degli Stati Uniti, però col passare del tempo purtroppo questo sistema stava costando troppo, per cui si decisa di bloccare il programma Blue Streak. Gli inglesi invece che direbbero buttiamolo, insomma, va bene, e disse però questo qui lo potremmo utilizzare per sviluppare un raggio vettore per il lancio di satelliti di matrice europea. Bene, allora possiamo prendere il Blue Streak e usarlo come primo stadio, questo è bello potente, va bene? Si mise d'accordo con la Francia che anche lei stava sviluppando dei razzi che provava nei deserti africani, va bene? E tu fai il secondo stadio derivandolo da uno di questi tuoi razzi, poi il terzo stadio lo facciamo fare alla Germania che ha già fatto la V2, quindi lì la competenza, o perlomeno la cultura del razzo c'è, e poi dato che l'Italia, insomma, era uno dei quattro paesi più importanti dell'Europa, va bene? All'Italia gli facciamo fare il satellite che si chiamava Eldo Pass. Qual era il compito di questo? Poi sapete in Spagna, in Belgio, avrebbero fatto sistemi di terra e così via. Qual era il compito dell'Eldo Pass? Era arrivare nell'orbita geostazionaria nella quale lo portava il lanciatore, che si chiamava Europa il lanciatore, va bene? E da lì inviare un segnale che attestava il raggiungimento, che attestava il raggiungimento della, diciamo, dell'orbita geostazionaria. Diciamo una funzione un po' povera, per cui i professori italiani, a partire dal professor Carassa, del progetto di Milano, andarono al CNR e dissero, scusa, facciamo sto satellite, va nello spazio, va in giostazionaria, perché non paghiamo noi come Italia un carico utile che faccia delle sperimentazioni importanti? E quindi nasce questa idea con una, diciamo, partecipazione dell'Italia, con questo sviluppo di questo sistema di comunicazioni avanzate, provare nuove frequenze e cose di questo genere. Ora che succede? E dato che nel lancio dell'Europa non c'è stato un lancio andato bene, ha fatto 11 lanci, 11 fallimenti, va bene? E allora a quel punto, per ridurre i costi, decise l'Eldo di non portare più un'orbita già stazionaria, ma lasciarlo nell'orbita di trasferimento all'orbita ellittica che precede la stazionaria. Però questo faceva perdere di significato all'esperimento italiano, che stava a bordo invece di uno dell'orbita già stazionaria. Per cui i professori andarono a parlare con il capo del governo italiano, gli spiegarono la cosa, gli disse, guarda, noi siamo molto avanti, abbiamo già, sono anni, già il CNR ha speso per sviluppare queste cose, perché buttarle così, senza senso? Perché non italianizziamo questa esperienza dell'Eldo Passa prendendola e proseguendola come satellite italiano? Nasce in questo modo il satellite Sirio, che vuol dire satellite italiano di ricerca industriale operativa. Andiamo avanti, quindi nasce il Sirio, va bene? Andiamo attraverso la scienza del satellite Sirio, eccolo qui, quello è il professor Carassa, va bene? Che faceva l'esperimentazione alla 12-18 gigahertz, che è quella che noi aggiustiamo per ricevere i segnali televisivi da satellite, va bene? È stata un po' sofferta come varo, perché il programma fu approvato nel 68 per un lancio nel 72, però riuscire a fare le cose con i tempi debiti, no? Però l'industria che già stava lavorando sull'Eldo Passa ha continuato a lavorare, certo non a pieno ritmo, perché se no poi il bilancio come lo fai, no? Per cui ha continuato a mantenere attiva questa cosa, perché poi finalmente, finalmente, nel 1974, cioè due anni dopo l'ha presunto lancio, è arrivato finalmente il contratto, e a questo punto si è potuto lavorare a tempi pieni, diciamo come sarebbe stato anniversario, e nel 77 il satellite è stato lanciato. Ecco, satelliti telecomunicazioni, ovviamente tutte le industrie italiane importanti c'erano, va bene? Però chiaramente la ripartizione dell'oltre milione di ore necessarie per questo satellite per la sviluppare, va bene, la maggior parte furono il 29% della Selenia, la SNIA il 18%, l'Air Italia che era la Fiat l'8% e la Fiat il 2%, cioè una divisione coerente con il ruolo che svolgevano, per cui nasce questo satellite che fu lanciato poi nel 1977. E quindi Sirio quindi è stato, e non è stato l'unico evento di quel periodo, ma qui vedete che per esempio dal 71 al 91, in Sirio è del 77, i satelliti sono stati molti, vedete qui le quantità di nomi, vedete l'INSAT un satellite indiano, Arab un satellite dei paesi arabi, GEC-SAT un satellite giapponese, cioè oramai diciamo il nostro paese alla fin fine, oltre che partecipare ai programmi con diciamo ruoli di rilievo come sistemista eccetera, per avere questa capacità di leadership, però aveva un riconoscimento delle sue tecnologie che venivano poi fornite a una quantità di paesi, magari attraverso un prime contractor americano e così via. È un dato di fatto che tra il 71 e il 91, cioè in 20 anni, sono stati lanciati 51 satelliti con roba italiana. Diciamo non sono tanti, sono due l'anni, vabbè due e due e mezzo l'anno, però per che consideriamo che proprio siamo agli inizi delle questioni, questo è buono. Qui vedete Sirio 1, c'è l'Olympus, andiamo avanti, parliamo di Olympus, vai, andiamo avanti. Bene, allora, il passo successivo era ovviamente, avendo fatto l'esame di maturità, dimostrato all'Agenzia Spaziale Europea, che l'Italia era capace di gestire un intero satellite, di te. Il Sirio, non sarà stato grosso, ma era comunque una capacità sistemistica, tecnologica, operativa, era tutto, tutto il contesto completo, va bene, può avanzare, va bene, proposte di partecipazione più importanti ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea. E il primo di questi, poco dopo, fu il programma Olympus, Olympus che si chiamava LSAT all'inizio, Large Satellite, va bene, l'avevamo nominato prima anche nei programmi dell'ESA, però l'Italia cosa ebbe qua? In questo satellite è importantissimo, ebbe la responsabilità dell'intero carico utile di comunicazione. Qui vedete, non è cosa piccola, guardate, quelle antenne sono parte, quella che appare del carico utile di telecomunicazioni, guardate che parco di antenne, che è decisamente importante, va bene. E questo che cosa faceva Olympus? trovava anche degli esperimenti di televisione ad alta definizione, teleconferenza, teleformazione, tutta una quantità di servizi innovativi, diciamo, che vedevano il progresso dell'uso del satellite in sempre numero maggiore di applicazioni delle telecomunicazioni che stavano sviluppando nel mondo. E l'Italia ovviamente aveva dimostrato una capacità immensa, e questo è importante, perché io voglio far vedere come il nostro paese si connette in questo fatto dello smazio, e lancia un satellite italiano, Italsat. Qual era l'innovazione? L'Italia aveva sempre una, diciamo così, un ruolo fondamentale nelle telecomunicazioni, a partire da Guglielmo Marconi, che fece il primo collegamento tra l'Inghilterra e la costa americana, senza fili, va bene. e quindi ha sempre fatto, sì, era un'innovazione, andava a provare nuove bande di frequenze, va bene. Ecco, l'Italia è stata un'innovazione ancora maggiore, perché vedeva una trasformazione del satellite. Il satellite di fatto, come anche lo definì Arthur Clarke, era un ponte radio messo nello spazio. Ecco, la trasformazione era, ma perché non lo trasformiamo in una centrale messa nello spazio, cioè in un gestore della risorsa telecomunicazione. Ogni satellite ha la sua capacità di telecomunicazione, che è il numero di canali televisivi che può trasmettere, il numero di telefonate, cioè quanto della risorsa è assegnata ad ognuno dei servizi. In questo caso, nel concetto di Dalsan, non ha un'idea. Dividiamo l'Italia, lo vedete nell'immagine sulla sinistra, l'Italia era divisa in sei regioni di traffico. Vedete c'è la Sicilia, c'è la Sardegna, il sud c'è la Calabria e la Puglia, c'è il centro, c'è il nord-est e il nord-overso. Questo perché? Perché le caratteristiche di queste zone sono diverse. Per esempio, faccio un esempio, nella direzione, nel collegamento tra Milano e Roma d'inverno, beh, insomma, sono un po' intasate, perché chiaramente c'è l'attività produttiva, Milano, Dolina e così via. D'estate, magari ad agosto, non c'è tutto questo traffico, mentre invece ce n'è di più sicuramente tra l'Atliatico, dove stanno le zone di vacanza, e la Sardegna, dove la gente va in vacanza. Quindi, ma questo è così, per dirla semplicemente, ma per dirla in maniera un po' più professionale, diciamo, se capita una questione, un terremoto, va bene? Il terremoto dell'Irpinia, molti vittime, sono state dovute al fatto che le risorse, mentre arrivavano, trovavano il ponte che doveva esserci, che non c'era più, va bene? Non potevano comunicare, non c'erano, erano crollati i punti radio, quindi avere un sistema che in tempo zero, cioè il tempo di portare, una stazione portatile, nella zona critica, e collegarlo con la protezione civile, con il Ministero di Pesa, con chi deve essere collegato, è sicuramente una cosa, e ci mette tante, tante, tante delle risorse, perché c'è un'emergenza. Quindi questo fu sviluppato, fu ideato dall'Italia, quindi gestione attiva della risorsa telecomunicazione sul satellite, che cosa ha voluto dire? Che io dovevo avere la capacità di indirizzare una chiamata che veniva da una zona ad un ricevitore che stava in un'altra zona, dove esserci quindi una centrale, uno smistatore della comunicazione che facesse questo, e lo vedete quella specie di scatoletta marrone, quella che lo sa più o meno come una scatola di scarpe, va bene, che si chiama matrice di comutazione in banda base, perché il segnale arrivava dalla zona 5, e doveva andare alla zona 2, entrava in questa matrice di comutazione all'ingresso della zona 5, veniva riindirizzato all'uscita della cosa 2, dalla zona 2, e quindi lì veniva ritrasmesso, veniva poi amplificato e trasmesso, quindi veniva gestita in maniera attiva, efficace, questa risorsa di telecomunicazione. Questo segnale è stato lanciato nel 1991 e anche questo, tra l'altro, portava nello spazio la prima utilizzazione operativa della banda K, la 20-30 gigahertz, che è oggi la chiave dell'internet satellitare. Tanto per ieri, ma questo era il primo che portava questo operativamente in termini operativi nello spazio, qualche svedimento c'era stato, ma operativamente no. Bene, a questo punto andiamo avanti, a questo punto oltre all'esame di maturità si è fatto anche l'esame di laurea, diciamo con Ida al Satano, per cui oramai era fuori di dubbio la grossa competenza in questi sistemi, va bene, e per cui quando nacque l'idea di Artemis, Artemis che aveva nominato con gli americani Data Relay Satellite, eccetera, al Temis era il precursore europeo di Data Relay Satellite, però già c'è nato prima, li vedete, nell'immagine a destra c'è il satellite delle comunicazioni messi in orbita geostazionaria e poi c'è un satellite piccolo, basso, quello con il cerchietto rosso, va bene, che è un satellite di osservazione della Terra. In quel caso quel piccolo satellite per la sperimentazione fu utilizzato un satellite spot francese di osservazione della Terra e i francesi tra l'altro misero anche sul loro satellite un trasmettitore ottico, cioè fatto con un raggio laser, va bene, trasmissione ottica e produsselo poi da mettere sul satellite il ricevitore, per cui il satellite che era sempre in collegamento con la stazione da Terra a quello di data stazionaria, va bene, prendevi i dati, i tanti dati e li ritrasmetteva a Terra. Quindi Artemis è stato il precursore del satellite europeo che attualmente diciamo c'è, va bene. A questo punto andiamo anche facciamo un ulteriore avanti, quadro, e vedete, insomma, anche qui dal 91 al 2001, 10 anni, un centinaio di satellite, sono un po' cambiate le cose, e vedete che anche qui trovate una quantità di, diciamo, un AWELSAT che è un satellite argentino, SinoSAT che è un satellite cinese, CoreaSAT che è un satellite coreano, sono tutte cose nelle quali c'è sopra la tecnologia italiana. Quindi l'Italia oggi si pone a livello mondiale tra coloro che hanno la padronanza completa delle tecnologie di telecomunicazioni. Va bene? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Il passo successivo, beh, sapete, l'Italia, la situazione geopolitica, chiede all'Italia di essere anche presente in teatri operativi, diciamo, fuori del proprio paese. Ma già l'Italia è stata utilizzata in uno di questi quadri operativi, anzi voglio dirlo perché direi importante, perché quando l'Italia è stata chiamata a partecipare alle questioni, diciamo, di pacekeeping in Jugoslavia, va bene, mandò delle truppe lì, mandò il nostro contingente e c'era anche il piccolo ospedale da campo. Va bene, l'ospedale da campo c'è l'ufficiale che è quello che è responsabile da campo, però non può prevedere tutto ciò che può succedere, per cui, tramite IDA, fu realizzato con il satellite italiano, diciamo, una stazione di terra nell'ospedale da campo e l'altra all'ospedale militare del Cedio, per cui c'era questa connessione permanente tra l'operativo nel campo di operazioni e, diciamo, il punto di riferimento dell'arte medica, se vogliamo, nell'ospedale, diciamo, militare del Cedio, per cui qualunque cosa, una grave ferita o che c'era una risorsa importante di esperienze da primaria e altre cose di questo genere. Quello fu realizzato e funzionò bene, anzi, fu usato moltissimo a quanto mi hanno poi raccontato per dare aiuto a, diciamo, a problemi di ferite e cose della popolazione. Va bene, quindi, sigla quindi i militari, l'Italia è sempre più chiamata, l'Afghanistan di Guaiga, quindi che devi fare? Allora, il sistema difesa, che aveva già fatto degli studi, già a partire dalla fine degli anni 70, insomma, sulla necessità, su pensare a un sistema, lanciò il programma SICRA, che vuol dire Satellite Italiano di Comunicazione Riservate dall'Armi, sistema militare. Va bene? Allora, furono fatte, è tutto quello che bisognava fare, fu progettato, realizzato, lavora in una quantità di bande di frequenza, consente il collegamento tra gli organi di gestione statali, Ministero di Pesa, Stati Maggiori, insomma, comunque, va bene, e tutti le risorse di spiegare altrove, siano esse aviotrasportate, parla con gli aerei, parla con le navi, parla con i sistemi di terra, per cui è un collegamento permanente, effettivo, con le nostre risorse. Chiaro che non diamo altre informazioni, ma insomma, questo è. Dopo SIGRAL 1, che è stato lanciato nel 2001, va bene, diciamo, otto anni dopo è stato lanciato il SIGRAL 1B, cioè, c'era qualche piccola, nel primo si fa un po' di sperimentazione pure, si capisce qualche modifica, viene realizzata, intromessa nell'1B, e ha partito anche l'1B. Poi, a un certo punto, decide, perché i statali di comunicazione durano una quindicina d'anni, di fare il SIGRAL 2, e poi gli capita un'altra cosa, visti i rapporti, diciamo, tra Italia e Francia, la Francia anche aveva un sistema di comunicazioni che si chiama Syracuse, va bene, e a un certo punto disse, mi serò d'accordo, quindi, perché il payload di Syracuse non lo mettiamo sul satellite, diciamo, SIGRAL, in modo tale che abbiamo il satellite, che lo uso io, lo uso te, risparmiamo, diciamo, un po' di soldi, tra tutti e due, va bene, e quindi, così, fu fatto, quindi, oggi, il SIGRAL 2, ha doppio payload, c'è una partecipazione francese, che ovviamente, paga parte del satellite, e poi paga tutto il suo carico utile, e quindi sta funzionando. Fatto questo fatto, andiamo avanti, c'è un altro quadro, qui non ho messo più tutti con le date, perché, insomma, pensate che, insomma, voglio dire, oltre 10, 12, 10, 15 mila satelliti lanciati, quelli delle telecomunicazioni sono la maggioranza, se uno dovesse nominarli tutti, anche a metterci un minuto a satellite, ci impiegheremmo, uno va in pensione, prima che finisce di dirgli tutti, va bene, per cui, ho fatto giusto qualche esempio, per mostrare come ancora c'è, diciamo, la presenza, a livello internazionale, e così via, e stiamo continuando in questo, quello che è cambiato, quello che è cambiato, è che evolvono anche i sistemi industriali, per cui, per esempio, l'industria italiana primaria, in questo settore, che era la Selenia, poi è diventata Lenia, Spazio, poi eccetera, va bene, oggi è completamente fusa con la francese Thalès, va bene, e quindi c'è dovuto fare una separazione, chi guida cosa, e nelle telecomunicazioni, diciamo, quelle più commerciali, fatte salve le tecnologie, guida maggiormente, alla parte francese, mentre su quelle istituzionali, proprie del paese, ognuno si guida la sua, va bene, fermo restando, che le tecnologie, si le produce, chi ha la capacità, e la priorità, per cui, sono cose che facciamo, noi in Italia, anche per i statali di francesi, e cose che fanno in Francia, anche per quelli italiani, si deve ottimizzare, per non buttare poi, risorse, ecco, quindi, quindi la storia continua, e andiamo avanti, quindi continuiamo anche noi, dopo l'esperienza Sigla 2, l'Italia e Francia, decidono di fare un ulteriore passo avanti, che si chiama Atena Filus, che è un satellite, questa volta non più solo militare, ma è un satellite, militare e civile, cioè duale, un concetto che era stato lanciato in Italia, con il programma di osservazione Cosmoscane, e di cui parleremo nel futuro. Bene, che vuol dire Atena Filus? Accesso a teatri e nazioni europee, per le forze alleate, satelliti da uso duale, italo-francesi. Bene, questo qui lavora nelle bande EHF, cioè, quindi, ad altissime velocità, e cose di questo genere, è stato lanciato nel 2014, ed è attualmente operativo, ma è una bellezza. Va bene, andiamo avanti ancora? Bene, a questo punto, qual è il quadro? Il quadro. L'Europa, in quanto Europa, va bene, in quanto Unione Europea, ha delle infrastrutture, che sono considerate, infrastrutture strategiche. Va bene? E sono infrastrutture, dalla cui funzionamento, e dalla cui difesa, dipende la sicurezza dell'Europa. E quali sono queste infrastrutture? Per le navigazioni satellitare, Galileo e l'EGNOS, telecomunicazione, navigazione satellitare. Per l'osservazione della Terra, il programma europeo Copernicus, che sviluppa satelliti ottici, microonde, in tutte le razze possibili dell'osservazione della Terra. E poi c'è la SSA, o System Airspace Situation Awareness, cioè, diciamo, consapevolezza della situazione dello spazio, che vede tutto lo spazio, che ci riguarda, per vedere chi ci passa, chi non ci passa, i satelliti, eventuali rischi o minacce che vengono da qualunque cosa. Ovviamente, come abbiamo detto proprio all'inizio di questo primo intervento, le comunicazioni sono fondamentali, soprattutto questo non può sempre funzionare. E quindi, l'Europa ha varato il programma GOV-SAT-COM, comunicazioni di satelliti, comunicazioni governative. Che cosa fa? Bene, dato che i paesi europei hanno i loro satelliti, hanno i loro sistemi, allora l'Europa ha accesso a questi satelliti, se qualcosa gli manca e c'è qualche privato che fa una cosa che questi non fanno, compra l'uso di quattro altro satellite, ma sviluppa, realizza e mette in operazione le infrastrutture a terra di quanto necessario per la fornitura dei servizi del GOV-SAT-COM. Quindi è una rete che nasce dalla aggregazione, va bene, tra tutte quante queste cose e questa è una cosa diciamo di abbastanza recente diciamo istituzione che sta andando in questo modo, per cui è chiaro che l'Atena Fidus sarà dentro il GOV-SAT-COM e così via tanti altri satelliti. Andiamo avanti e chiudiamo. Operatori. Allora, è chiaro un fatto da tutto questo e l'avete visto in molti dei nomi dei satelliti, Not, Berd, InterSat, Eudelsat e così via, sono operatori privati. Loro campano dal il denaro, cioè dall'utile che fanno dalle loro attività. Allora, inizialmente sono stati ovviamente abbiamo detto InterSat, Eudelsat, Arabsat, dei paesi arabi, Insat, dell'India, Il Marsat, delle nazioni marittime e puntini, puntini, ce ne sono una quantità, Panam, Sat, ce ne sono una quantità enorme. Allora, questi sono quelli, i primi, quelli che hanno iniziato e che sono sempre più consolidati, insomma, oggi siamo pieni di sistemi di telecomunicazioni satellitari per diffusione di informazione, eccetera. Poi esistono quelli di telefonia e la telefonia, insomma, sai, farla con dello stazionario che facciamo la telefonia mobile, no? Il ritardo è poco tollerabile, per lì però sono stati sistemi che sono in orbita bassa, no? Tipo il Globastar in cui l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale, va bene, l'Iridium, c'è il Turaia che mi pare che sia pure questo, va bene, è dei paesi arabi e così via, vedete, sono puntini, puntini, perché questi non si riesce a tenere il conto di tutti, ma quello che è il fatto nuovo, il fatto nuovo che è un'ulteriore frontiera che si è aperta nel campo delle telecomunicazioni spaziali è l'internet satellitare. Ecco, e questa, sì, si è fatto delle sperimentazioni già con la banda KA e cose di questo genere, Olympus, COIDA, si poteva fare, però insomma non erano delle condizioni migliori per questo tipo di servizio e qui sono arrivati pesantemente i privati, perché come credo sia percettibile a tutti noi oggi l'internet è una delle cose più diffuse delle telecomunicazioni nel mondo e tra questi imprenditori satellitari non poteva mancare Elon Musk con la sua SpaceX, il proprietario di Tesla, SpaceX e così via, quello che ha sviluppato lanciatori recuperabili in cui il primo stadio porta nello spazio le cose e poi ritorna a terra e ria a terra, insomma, va bene, e questo ha lanciato un sistema satellitare che si chiama Starlink. Bene, il progetto iniziale era 12.000 satelliti in orbita bassa, potete capire la disperazione degli astronomi, radioastronomi e questa roba intorno alla terra che danneggia la loro diciamo la loro fruibilità dello spazio libero, va bene, e di questi tanto per dire, di questi nel periodo dal 29 maggio 2019 fino a qualche giorno fa, 20 ottobre 2022, sono stati già lanciati 3.500, tre satelliti di questo Starlink di Elon Musk, poi è nato poco dopo è nato un altro e OneWeb, un'altra considerazione di 130 satelliti e così via, quindi questa è la nuova frontiera che si sta aprendo in orbita bassa, quindi si aumenta anche il problema del traffico attorno alla terra che insomma non è una cosa diciamo molto 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 auspicabile. Quindi questa è la situazione. Qual è le nuove frontiere dello spazio che si apriranno? Ma certamente quelle collegate con l'esplorazione dello spazio, collegare lo spazio dal punto di vista diciamo di comunicazione tra la terra e Marte, non sono sempre in vista la terra e Marte, Marte mette due anni a fare un giro la terra uno, dopo un anno che stavano insieme uno è stato da parte opposta c'erano dei problemi e lì hanno studiati nuovi sistemi, nuove concezioni, nuove tecnologie per poter far fronte a questo. Io ringrazio la Voa Culture per fare questa diciamo questa panoramica ovviamente molto svilta, rapida, ma sempre più da tutto per far capire cos'è questo settore e do appuntamento al prossimo argomento che parlerà dell'osservazione della terra allo spazio. Grazie. Ben ritrovati e dopo l'interessantissimo intervento da parte dell'ingegner Roberto Somma in questo nostro primo incontro del Festival della Scienza edizione 2022 di Spazi dello Spazio non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento all'incontro successivo del nostro Festival. Grazie a tutti e a presto. Grazie a tutti.